La partita che ci ha visto praticamente soccombere per due gol dopo 13 minuti poteva essere una partita compromessa. Il merito della squadra è stato che tra l'impegno, l'applicazione e la volontà non solo siamo tornati in partita con un bellissimo gol di Moro ma con questa determinazione che abbiamo avuto dopo il ventesimo del primo tempo la squadra non meritava certamente la sconfitta nel primo tempo anzi per l'occasione e la mode di gioco profusa meritava il pareggio poi contro avversari che sono super motivati contro l'Italia che hanno una vigoria atletica del genere però il nostro mea culpa è che non si possono concedere tiri soprattutto nei primi minuti dove avevamo difficoltà un po' col duello difensivo e anche a sviluppare in attacco. I ragazzi però non possono rimproverare nulla sul piano dell'impegno e della negazione perché la squadra non meritava la sconfitta.